Adesso mi leggo Topolino Ecco qui Che cosa succede? Ma oggi è la ginnastica Ma bambini Ma siete voi Scusate bimbi Stavo leggendo Topolino Ma adesso sono pronta Per cominciare Allora datemi 5 minuti Che arrivo subito Meno male che mi avete chiamato Bimbi Ma che sono queste immagini? Proviamo un po' a indovinare cosa faremo oggi C'è chi muove le braccia Chi muove le gambe Chi muove i piedini Mercoledì pomeriggio Cosa c'è il mercoledì pomeriggio? Pensiamo un po' Ma bravissimi La psicomotricità Con Noemi Ecco i bimbi Scusate ma nel frattempo che vi aspettavo Mi ero messa a leggere Comunque oggi Come al solito È mercoledì Mercoledì pomeriggio Allora vi devo fare sempre un po' Le stesse domande Vi volevo chiedere Se avete fatto la merenda Se vi siete cambiati E se vi siete messi qualcosa di leggero Perché questi giorni sta facendo un pochino caldo E se siete pronti Per giocare con me E muoverci un pochino Con dei percorsi nuovi Oggi Con degli esercizi nuovi Sempre un pochino più difficili Perché andiamo a aumentare Sempre un po' più La difficoltà Quindi Mi raccomando Ascoltate sempre bene Per poter Fare l'esercizio Nel modo corretto Allora io saluto tutti i bambini Che ci seguono E li ringrazio Per averci seguito In questi lunghi mesi Insieme E saluto anche i bambini nuovi E saluto anche i bimbi più piccoli Se magari ci stanno guardando Questa è una lezione di psicomotricità Per i bambini Un pochino più grandi Quindi I bambini più piccoli Hanno sempre bisogno di un supporto Se vogliono giocare insieme a noi Allora Come al solito Iniziamo La nostra lezione di psicomotricità Con un po' di corsa Con una canzone Che voi conoscete già Quindi Bambini Uno Due Tre Pronti con il riscaldamento? Via! Siete pronti per il riscaldamento? Riscaldiamo il nostro corpo Per prepararlo All'esercizio fisico Via! Avanti Dietro Avanti Dietro Pronti? Corsa 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 Tocca più giro Vi ricordo Vi ricordo Che potete correre avanti E dietro Allora Adesso cambiamo la corsa Proviamo a correre Portando i piedi Sul siderotto Siamo pronti? Siamo pronti? Via! Uno Due Tre Quattro Lo potete fare anche sul posto Via! Cinque Sei Sette Oto Nove Dieci Recupero Butto giù Ancora Butto giù Via! Cammino Recupero un pochettino Recuperiamo Uno Due Svegliamo i piedini Andando in punta Su E giù Spingo le punte Verso l'alto E vado giù Spingo le punte Verso l'alto E vado giù Allunghiamo anche le braccia Sciogliamo I piedi Perché adesso Correremo In un altro modo diverso Portando su Le ginocchia In questo modo Ok? Guardate Su le ginocchia Su 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 E O lo fate sul posto O girate intorno alla stanza O andate Avanti e indietro In questo modo Giro Sul posto Oppure Avanti e indietro Uno Due Tre Quattro Cinque Bene Miriamo le braccia Uno Ricoperiamo Eh Mirate le braccia Giro Giro Cerchetti piccoli Molto bene Cerchetti piccoli Eh Ricoperiamo E bene Ci sentiamo un pochino più Pronti Abbiamo svegliato tutti i muscoli Abbiamo finito il riscaldamento E partono i primi esercizi Bene bimbi partiranno gli esercizi a corpo libero E non servirà nessuna attrezzatura Facciamo un po' di esercizi Per andare a muovere la parte inferiore del corpo Quindi apriamo E chiudiamo le gambe Apro Chiudo Adesso Aggiungiamo anche le braccia Quando le gambe aprono Le braccia vanno avanti Qui Nel mezzo Quando chiudono Vanno dietro Vicino ai fianchi Quindi Qui a Uno Due E andiamo fino a dieci Eh Tre Quattro Cinque Lentamente Sei Sette Otto Nove Dieci Molto lentamente Adesso Ripetiamo lo stesso esercizio Dieci volte Però Più velocemente Siamo pronti Via Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Molto bene E ora Risvegliamo le punte di piedi Uno Allora Andiamo su con la punta Verso l'alto Uno Due Uno Due Ok Punte verso l'alto Punte verso il basso E lo facciamo sempre dieci volte Pronti Via Uno Due Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Allora Se Siede più comodi Mettete le braccia indietro Sette Otto Nove Dieci Sì Molto bene Rilassiamo i muscoli E facciamo una farfallina La farfallina si fa Unendo i piedi Le ginocchia sono un pochino alzate E muoviamo le ali della farfalla Come si muove la farfalla? In questo modo Facciamo finta che le nostre ginocchia sono le ali della farfallina E andiamo Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Molto bene Ed ora Andiamo in giù E facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima Aprendo e chiudendo le gambe Però Questa volta da sdraiati Via Apro Chiudo Uno Due Via E lo facciamo dieci volte Prima lento va veloce Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Per aumentare la difficoltà Potete aprire sempre di più le gambe Otto Nove Dieci E ora Lo facciamo un pochino più veloce Via Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Molto bene Molto bene Ed ora Da sdraiati Faremo la bicicletta Ve la ricordate che la facevamo sempre a scuola Sempre piano Un pochino più lentamente E poi vediamo l'esercizio più veloce Via Allora Una gamba gira e l'altra pure Uno Due Uno Due Come se fossimo in bicicletta E dobbiamo muovere i pedali della bicicletta Quindi muove prima uno e poi l'altro In coordinazione Pronti via Vai Immaginiamo di muovere i pedali Facciamo un pochino più lento E poi veloce Facciamo così che mi vedete meglio Pronti via Lento Lento Veloce 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 Lento Lento Veloce 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 Invece Forza Devo correre Devo andare al parco E per E piano 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 E Veloce 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 Correte Correte Che ci stanno raggiungendo tutti gli amici Forza Veloce Piano 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 Bravissimi Faremo una cosa Che mamme Non vi preoccupate Perché l'abbiamo già fatta L'attivo Cercheremo di Andare E mettere i piedi Contro una parete E sollevarci Quindi Scegliete una parete Della casa E guardate Guardate cosa faremo Ora faremo un esercizio di forza Cercheremo di tenerci in equilibrio con i piedi sulla parete e le braccia ferme sul pavimento Allora Adesso faremo un mini esercizio molto piccolo e molto veloce Però per fare questo ci dobbiamo spostare Dove abbiamo una parete Io ho scelto questo spazio Che è un armadio E ci servirà per appoggiare i nostri piedi e sollevarci con le braccia Allora Non vi preoccupate perché i bambini già l'hanno fatto all'asilo per i bambini che mi conoscono Per quelli nuovi non è niente di difficile Quindi Sono solamente 5 secondi Alziamo prima una gamba e poi l'altra E rimaniamo In una posizione di ponte Per 5 Secondi Siamo pronti? E Via Allora Appoggiamo prima un piede Ci mettiamo Nella posizione del cagnolino E Alziamo prima un piede E poi l'altro Solo 5 secondi Pronti? Via 1 2 3 4 5 Benissimo Questa parte degli esercizi a corpo libero è finita Quindi adesso faremo un nuovo gioco Come state? Tutto bene? Allora è finita la parte un pochino più dura Che era la parte dell'esercizio corpo libero Abbiamo svegliato un pochino tutte le nostre parti E siamo pronti per questo gioco Allora Il prossimo gioco è Diciamo una cosa che voi rinascete molto bene Che sentite? La sentite suonare E fa così Che cos'è? Bravissimi È il gioco della campana Allora Per questo esercizio mamme Serviranno Dei Semplici giornali Adesso vi faccio vedere Come le dovete posizionare E voi bambini Mi raccomando Aprite gli occhi Chiudete la bocca E aprite le orecchie E guardate Seguitemi Per il gioco della campana Serviranno solo di foglie di giornali Il prossimo video Vi farà vedere come posizionarli Allora vi faccio vedere Come dovete posizionare I fogli di giornali Nel primo step Li mettiamo doppi Quindi Uno e due Mi raccomando Fistate I fogli di giornali Con un po' di scotch Nei quattro lati Uno Due Tre Quattro E anche l'altro foglio Quindi uno Due Tre Quattro In modo tale che quando ci saltiamo Il foglio di giornali Non si esposta Quindi doppio Singolo Doppio Singolo Singolo Quindi questo È il giusto modo Ve lo faccio rivedere Insieme E questo è Il modo corretto Siamo pronti? Bene Bimbi attenti Perché partirà la spiegazione Del gioco Con una piccola dimostrazione Pratica Quindi ascoltate bene Allora Spiegazione Dell'esercizio Della campana Allora Quando vedete Il doppio foglio di giornale Dovete fare un salto Con le gambe aperte Così Quando ne vedete Uno Singolo Dobbiamo fare Il salto normale A piedi uniti Quindi Quando è doppio Facciamo un salto A gambe aperte Quando è singolo Ne facciamo Uno A gambe unite Quindi abbiamo Gambe aperte Salto a gambe aperte Salto a gambe Unite Aperte Unite Unite In questo modo Ora ve lo faccio vedere Il primo salto È a gambe aperte Il secondo salto È a gambe unite Aperte Unite 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 Perfetto Arrivati Alla fine Del percorso Ci tiriamo E lo facciamo Nel verso contrario Cambia un pochettino Perché capiamo Il singolo Singolo Doppio Singolo Doppio Perfetto Fine spiegazione del gioco Siete pronti per la prima ripetizione? Via Ora avete vinto La spiegazione Dell'esercizio E andremo a fare Tre ripetizioni Ma dobbiamo essere Un pochettino Più veloci Ok? Cominciamo un po' di musica E lo ripetiamo Ok? Più veloce Doppio Singolo Doppio Singolo Singolo Mi giro E continuo Singolo Singolo Doppio Singolo Doppio Fine Prima ripetizione Ok Ora inizia la seconda ripetizione Doppio Singolo Doppio Singolo Singolo Mi giro E continuo Singolo Singolo Doppio Singolo Doppio Doppio Allora bimbi Ora inizia la terza ripetizione Ed è l'ultima Poi si cambia esercizio Pronti? Uno Due Tre Via Doppio Singolo Doppio Singolo Singolo Mi giro E continuo Singolo Singolo Doppio Singolo Doppio Bimbi Arriva un nuovo gioco E per questo gioco Ci servirà Un rotolo di carta Un ventaglio Un piatto di plastica E lo scotch di carta Allora lo scopo del gioco È portare questo Rotolino di carta Solo Con l'aria Nella linea Di arrivo Siamo pronti? Via Vediamo se ce la faccio Via Game over Ragazzi Bimbi Il primo tentativo È fallito Lo ripetiamo Vediamo se ci viene Siamo pronti? Via Sì Vittoria Facciamo l'ultima volta Ed ora Per aumentare La difficoltà Mettiamo Un ostacolo Lungo La linea Di arrivo Bene Bimbi Amentiamo La difficoltà Ho messo Un ostacolo Tra La nostra Linea Di arrivo Siamo pronti? Vediamo se ci viene Pronti? Via Ed anche questa volta È un game over Vediamo se riusciamo A mandarlo Fino alla linea Di arrivo Siamo pronti? Via Facciamolo un pochino Delicato Delicato Ora veloce 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 Ed ora Bimbi Partirà Un gioco Di coppia Scegliete Un avversario E sfidatelo Per questo gioco Dovete Ascoltare Bene L'esercizio Allora Questo è Un gioco A coppia Allora Lo scopo Di questo gioco È quello Di far Arrivare Con l'aria Il rotolino Alle gambe Del nostro Avversario Se il rotolino Arriva alle gambe Del nostro avversario Abbiamo vinto noi Se invece L'avversario Ci manda Il rotolino Nelle nostre Di gambe Ha vinto l'avversario Lo posizioniamo Al centro Siamo pronti? Al 3 Tiriamo aria Vediamo chi vince 1 2 3 Aria Sì Ho vinto Parte la seconda manche Allora Siamo 1 Per me A 0 Per il mio avversario Pronti? Via No Perdo Siamo 1 A pari Facciamo L'ultima manche Per decretare Il vincitore Pronti? Via Per me Per me Per me Ho vinto Bene Bimbi Io sono riuscita a battere Il mio avversario Voi Come state procedendo? Sono sicura Che anche voi Starete vincendo Allora Bimbi Siamo giunti Alla fine Anche di questa Lezione E spero che vi sia piaciuta Perché abbiamo fatto un sacco di cose nuove Tra gli esercizi a colpo libero Tra il gioco della campana E il gioco del rotolo Spero che vi siate divertite Che abbiamo passato Un po' di tempo insieme Io vi saluto a tutti Vi mando Un grande bacio E mando un abbraccio Virtuale A tutti voi Un bacione grande Bimbi Ci rivedremo presto Ciao Dalla vostra maestra Noemi Ciao 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 Ciao